Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video in cui andremo a recensire un nuovo smartphone proveniente dalla Cina, l'Ulephone B-Pure. Andiamo a scoprirlo insieme nel dettaglio. Partiamo anche questa recensione come di consueto con un veloce unboxing del prodotto. All'interno della confezione di vendita troviamo lo smartphone disponibile in due colorazioni bianca e nera, due pellicole per lo schermo di cui una la troverete già applicata, un manuale, il cavo per la connessione dati e ricarica e l'adattatore da parete da 1A. Come potete vedere sono assenti invece gli auricolari. L'Ulephone B-Pure misura 14.4 cm x 7.1 x 0.9 e ha un peso di circa 150 grammi, batteria compresa. Sulla parte frontale troveremo qui in alto la fotocamera da 5 megapixel e la capsula auricolare, mentre in basso i pulsanti di navigazione. Sulla parte superiore la porta per la connessione del cavo di ricarica e il jack da 3.5 mm. Sulla parte laterale destra il pulsante di accensione, spegnimento, blocco e sblocco. Parte inferiore il microfono. Sulla parte laterale sinistra il bilanciere per il volume. Sulla parte posteriore, infine, troveremo in alto la fotocamera da 13 megapixel, il flash LED, mentre qui in basso lo speaker. Non vado adesso a togliere la back cover, perché ci metterei davvero molto tempo, visto la numerosa presenza di danci che la assicurano al dispositivo, però al di sotto troverete una batteria da 2000 mAh, i due slot per le SIM, una micro e una standard, e lo slot per le micro SD, che vi consentirà di espandere fino a 64 GB la memoria interna di 8 di questo dispositivo. Spostiamoci al display di questo Ulefone Bipure, display da 5 pollici, con una risoluzione di 1280x720 e una densità di 320 dpi. Come potete vedere da questa immagine, la riproduzione dei colori è davvero molto fedele. L'unico problema che si nota soprattutto con i bianchi è che tenderanno al giallo se andiamo a inclinare eccessivamente il dispositivo. Però questi sono problemi che durante l'utilizzo quotidiano non andremo a notare quasi mai. Passiamo al processore, processore Mediatek MT6592 Octa-Core da 1.4 GHz, una GPU ma di 450 MP e 1 GB di RAM. Processore che durante l'utilizzo quotidiano non ci darà problemi di alcun tipo, però se andiamo a metterlo sotto stress con alcuni giochi pesanti, come ad esempio Asphalt nel nostro caso, noterete dei cali di frame, dei lag molto accentuati. L'Ulefone Bipure arriva con Android 4.4.2 preinstallato, definito appunto dall'azienda PureOS perché è privo di personalizzazione. Le uniche funzioni extra aggiunte appunto dall'azienda sono Hotkey in Hot che vi consentirà di trasferire dati appunto come leggete quando lo schermo toccherà un altro dispositivo, mentre le altre funzioni sono presenti nel menu Action che vi consentiranno appunto di svolgere alcune attività attraverso delle gesture. Apriamo una piccola parentesi legata sempre al sistema operativo di questo Ulefone Bipure, vale a dire l'aggiornamento ad Android Lollipop. L'azienda appena lanciato il dispositivo aveva affermato che l'aggiornamento ad Lollipop sarebbe arrivato via OTA. Di recente però la stessa Ulefone ha pubblicato sulla pagina ufficiale di Facebook un comunicato nel quale dichiarava che l'aggiornamento per questo dispositivo e per altri non sarebbe arrivato a causa di alcuni problemi legati al processore Mediatek. Passiamo ad altro adesso e andiamo ad analizzare il comparto fotografico di questo dispositivo. Fotocamera, soprattutto quella posteriore, che ci ha lasciato molto soddisfatti soprattutto negli scatti effettuati di giorno. Come potete vedere da questa immagine le fotografie scattate con il sensore da 13 megapixel montato su questo dispositivo sono molto dettagliate. Questa qua ad esempio è una fotografia scattata con modalità HDR attivata mentre questa queste due sono con modalità HDR non attiva. Come potete vedere sono molto ma molto dettagliate e anche zoomando molto resteranno tali. Diversamente invece negli scatti notturni come potete vedere appunto dall'immagine a parte le fonti di luce non si vede praticamente nulla ma vabbè da un dispositivo di questa fattura e di questo prezzo non si può pretendere chissà che cosa. Andiamo a soffermarci infine sulla batteria di questo telefono batteria da 2000 mAh che nonostante tale capacità non vi farà arrivare a fine giornata. Infatti arrivata già a metà della metà giornata dovrete ricaricare il vostro dispositivo. Altro problema che abbiamo notato su questo dispositivo è che quando la batteria arriverà al 20% passerà appunto dal 20% allo zero quindi allo spegnimento totale del dispositivo in meno di 10 secondi. Tuttavia questo potrebbe essere un problema relativo soltanto a questo dispositivo in particolare. Abbiamo effettuato numerosi cicli di carica però il problema non si è comunque risolto. Infine qualche punto a favore e punto a sfavore di questo dispositivo sicuramente ha un'ottima gestione delle due SIM infatti potrete switchare da una SIM all'altra molto facilmente. Il comparto fotografico è molto soddisfacente soprattutto se lo utilizziamo durante il giorno e ha un buon rapporto qualità-prezzo. Punti a sfavore come vi ho detto prima il processore se messo sotto stress con giochi molto pesanti perde qualche colpo e in questo caso in questo dispositivo anche la batteria. Se siete comunque interessati all'acquisto di questo dispositivo lo troverete online sul sito di gearbest.com all'incirca 130 euro. Bene ragazzi per questa recensione è tutto io vi do appuntamento alla prossima e vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto di seguirci sui social e di scaricare la nostra applicazione dal Play Store. Un saluto da Mattemi City per www.angelfanblog.it